Ciao amici, oggi voglio parlarvi di un negozio davvero fantastico che ho scoperto di recente, si chiama Ottica Catalanotto. È una nuova catena che ha dei punti vendita sparsi in tutta Italia, dove sono riuscita a trovare degli occhiali veramente bellissimi, ma soprattutto di alta qualità e questa è la cosa più importante. Ve li faccio vedere, questi sono quelli che ho scelto io, questo è il primo e questo è il secondo che mi sono innamorata nel momento in cui li ho indossati, guardate quanto sono belli, stupendi no? Ce n'erano veramente di tutti i tipi, le tipologie più classici, più moderni, li ho fatti anche personalizzare, vedete questo è il mio nome scritto qui lateralmente e in questo momento, in questo periodo c'è un'offerta speciale, cioè potete acquistare due paio di occhiali, compresi di lenti, a soli 99 euro. Tra l'altro se avete bisogno di occhiali da vista come questi, questi negozi offrono anche dei servizi professionali, cioè ci saranno degli esperti all'interno che vi aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la vostra problematica visiva. Garantendovi veramente una piacevole esperienza, vi do la mia parola perché ottica catalanotto ci fa sentire come delle superstar.